ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodione dedicato ai vostri orologi ed eccoci qua con un'altra simpatica puntatella dedicata ai vostri orologi ai vostri affabili orologi ai vostri video praticamente a voi che ci mostrate le vostre collezioni di orologi per mostrarci il vostro percorso per far cercare di farci capire voi come intendete questo hobby perché c'è chi di voi ama gli orologi o vasi diciamo non c'è anche è capitato quindi mi mostra delle copie su copie cercando di difendere il proprio punto di vista chi si attesta sul vintage è allora lì serve studio capacità e spesso capitano anche orologini un pochino così e così no a crocchio a crocchio la francese della crocchio a crocchio oppure chi invece fa sul moderno allora lì ci sono gli entry level oppure quelli di pregio quelli da straricco per esibizionismo anche c'è tutto c'è tutto questo canale ci sono gli amici del canale che rappresentano tutte le varie possibilità di questo simpatico hobby e poi il bello è anche che la loro scimmietta che hanno sulla spalla li rappresenta in toto no c'è colui che ostenta e c'è la scimmietta con gli anelli d'oro e la collana d'oro qua lei vuole solo gli orologi quelli noi in materiale prezioso quelli che costano oppure c'è quella invece che ama gli omaggi e allora ti vedi la scimmietta che c'è la maschera da king kong perché lei si traveste da king kong vuol far vedere agli altri che king kong e invece una scimmietta come le altre come mia giovannetta siamo lì quindi l'orologio del giorno anche oggi è questo simpatico longe in idroconquest ghiera rossa 41 mm di diametro cassa calibro l619 ossia eta 28 92 quadrante nero numeri arabi a corollario è un orologio che mi piace mi dà soddisfazione come si vuole dire ma non ho ancora deciso di farlo sistemare perde 30 secondi al giorno sono più che accettabili per me ora ho comprato la scatola ho comprato su ebay una scatola ma ha risposto il venditore che ha detto che non si ricorda più se ce l'ha ce l'aveva a casa di sua mamma devo aspettare una settimana per vedere se ce l'ha vabbè io aspetto però io ho pagato aspetto aspetto vabbè fuori di borsa se non c'è vabbè detto questo il ditino inquisitore parte e dà il colpo alla barra spaziatrice da come al solito e speriamo un bene speriamo bene oggi ciao davide ciao ciao a tutto il canale sono raffaele della provincia di brescia e sono qui per mostrarti c'è proprio l'accento bresciano e mostrare al canale la mia collezione vai direi di partire subito col quarzo l'unico che ho così almeno tolto il dente tolto il dolore bravo scherzo dai è un bel bello tag c'è mille bello bello in queste condizioni lasciato appositamente così del tempo lascerò così due anni fa tre anni fa portato dalla tag fatto pulire fatto sistemare almeno all'interno la batteria anche una volta l'anno una volta l'anno aspetto che si scarichi è bello mi piace molto ho capito quindi praticamente ogni anno cambi la batteria anche se non ce n'è bisogno nel senso non aspetti che si scarica che faccia sì è un po come un orologio meccanico uno dice ogni cinque anni va fatta la revisione e si tratta di anticipare di mantenerlo sano nel tempo come la macchina gli fa il tagliato ogni anno non è che aspetti che fonde il motore no in questo caso si è avvantaggiato perché cambiare la batteria insomma quanto vuoi che costa due lire no quindi ogni anno cambi la batteria buono già questo dà un'idea della tua personalità di come ti poni di confronti degli orologini è classicone skx seiko bello bravo bis bracciale della strap code bello solido ma un po pesante diciamo che in estate soprattutto lo uso con questo qua il vaffo si chiama si dice così se non sbaglio se vaffo poi lo ricordo classicone ancora citizen che per la mia piccola veronica ormai questo è il mutanda perché gli indici l'indice ore 12 per lei assomiglia a una mutanda quindi ormai per noi è il mutanda braccialato cambio spesso con nato o con un tropic vengo io a vitarlo come si dice fa il fai su bravo poi passiamo a quello che è stata per me quest'estate l'orologio delle vacanze d'ho preso un po prima dell'estate sub 200 tanta roba piacevolissima sorpresa un orologio veramente stupendo con dei riflessi bellissimi al sole fatto veramente bene un bracciale chicchi di riso comodo tanto che sto facendo un pensiero per prendere un altro di colore nero molto molto ben fatto molto 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 bello ma ora non lo so io prendere due due orologi lo stesso modello ora pensavo ti lanciassi nel 300 t no con su un doxa di altra foggia più o meno oppure un altro se è comodo che ci sono orologi col bracciale a chicchi di riso che non siano doxa no perché sempre lo stesso modello il doppione ha senso poi ti stufi solamente per il quadrante differente dai non ha senso da ragionaci bene c'è un ventaglio di possibilità che uno non sa cosa prendere e te va e ti butti sul secondo bo poi vintagino anni 60 un bulova snorkel bello questo veramente bello questo mi piace vorrei anch'io da 35 coltato un cinturino in pelle tanto questo l'acqua non lo vede sì ma non è il suo cinturino comunque un anno fa è tagliato subito con una scheggia carina vintaggino lo vedi che cinturino l'hai tagliato e sarà da 20 quali sarà di 18 hai fatto i tagli per infilarlo dentro passiamo al bambino al bambino l'orient ah certo sì forse è stato uno dei primi sono partito forse da da questo orologio come collezione che sarà da 36 36 è piccolo è l'unico orologio che indossa mia moglie ha paura di mettere gli altri io spingo per farli indossare anche lei ha paura mi piace la donna con un orologio anche un po più grande bravo pervertito però lei ha paura di rovinarli quindi questo lo mette bravo uno dei miei ultimi acquisti accidenti stavo dietro un po lungi in conquest oggi la oggi modella 35 quello fuori produzione veramente veramente bello se sembra un classicone ma lo indosso anche con jeans così fa la sua porca figura porca mente bella mi piace anche a me questo con il suo cinturino originale è un nuovo figo originale è nuovo per forza poi un orologio a cui tengo tantissimo calamai bravo un orologio calamai mc 72 un saluto al grande francesco ciao francesco mi è stato consegnato direttamente da lui in persona il cinturino orologio questo è stato un regalo di mia moglie per i miei 50 anni io sono del 72 mc 72 adesso ho montato questo cinturino misto ci sta bene la pelle bravo bravo simpatico bravo francesco un abbraccione francesco passiamo a moon watch 1861 se non ricordo male 2005 adesso è montato un cinturino in pelle il suo bracciale non mi fa impazzire tanti cinturini fatti fare anche da john cool e quindi cambio spesso vai divertiti coi cinturini bello un orologio che dà grande soddisfazione soddisfazione full gold uno zenith stellina anni 60 perfetto corona originale fontello tutto d'oro tutto d'oro cinturino fatto fare da john cool un struzzo sì però vorrei dire una cosa non è che si chiama john cool perché non sembra che un'offesa un insulto john cool no sarebbe john e poi cool straps che significa cinturini ganzi no cinturini figli john cool straps john cool straps capito non john cool che sembra che si chiama john di nome e cool di cognome no oro giovanni ottile come si portava all'epoca cinturino è molto bello ce l'ho anch'io così mi sape lo speed master no più o meno più o meno di quelli seri serio poi poi altro la sigone dell'occasio di canale bibi bb 58 e 39 misura perfetta per il mio polso da 17 17 e mezzo con la luce del sole fare dei bei riflessi quel colore tipo bronzo guilt e accenti dorati solo non è bronzo dirai sempre i miei orologi un po segnati graffiati perché io li uso sempre tutti i giorni anche al lavoro bravo così ti voglio poi passiamo agli ultimi due anni miei due sogni da ragazzo un po di brio si sono abbinati un po di brio su da gmt rolex pepsi che hanno 2005 tanta roba il mio sogno da ragazzina che addirittura se mi dicevano quale orologio voi pepsi e alla fine è arrivata sono soddisfazione ma seriamente dico l'altro è questo affascinato da il fatto che lo giravi spariva l'orologio tra virgolette ci vuole anche a me questo ha scavalcato tutti mi serve mi serve anche a me questo qua lista gli orologi preferiti tra quelli che ho questo è il mio orologio si è sempre jeans camice di jeans maglietta polo bello sono molto contenta di questo orologio ci piace niente davide e io ho finito il topo glielo dato vi lascio con grande saluto love love a te che bello orologi cioè tutti gli orologi che mi piacerebbe avere a me diciamo faccio per dire no però perché per esempio blackbay 58 non è che mi interessa però se si potessero lo prenderei volentieri gli entry level cioè sia il citizen pro master che il seco skx e già lì ti meriti no un voto di una nota di merito diciamo così e poi dopo passi al doxa bello sub 200 bello il bullo vino che cosa c'entra di vice anche qualche vintegino verso lì così come il bulova lo zenith poi gli altri sono tutti moderni logine moderno orologi calamaia mc 72 bravo hai fatto una scelta anche nei micro brand cioè spaziato un po dappertutto micro brand e poi anche nei speed master nei brand nei brand affermati come tudor omega rolex gmt e gg recut reverso io ti do un bel 9 guardami forse oggi sono un po di manica larga però c'è tutta una serie di orologi che vanno da quelli entry level a quelli costosi dei micro brand al vintage e moderni marchi grossi marchi minori cioè tutto dimostra una certa versatilità in questo piccolo nostro hobby è passione sicuramente sei appassionato di orologi ora a vedere il tuo gg recut reverso lì come al solito mi bussa mi bussa l'orecchio la scimmietta no dice ma no ma forse è meglio anzi che il panerai no quando sarà non è meglio il giovannino le cultre lì gigetto le cutre anzi sì sarebbe meglio sì forse dipende due 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 cose completamente differenti e gg recut reverso elegante fine come me e il panerai abbastanza sfrontato sfacciato e smargiasso da utilizzare in due situazioni differenti il panerai lo metterei al mare questo qua lo metterei quando vado a fare la fashion week a milà quelle situazioni lì va bene dai prossimo video non ci pensiamo al gigetto dai lasciamolo passiamolo avanti non guardarlo non guardarlo ciao davide ciao buonasera a tutti gli amici del canale sera sono vito da bari e mandavo questo video per mostrarti un po la mia collezione sapere cosa ne pensavi da gli orologi iniziamo subito frederick costant open art mamma mia so quello che pensi di questi orologi così scheletrati alie mi sembrava l'ho voluto costare molto particolare peculiare meno male che c'è qualcuno cui piacciono sennò eccolo lì oggi in spirit caravone questo ci piace tanto invece come semplice solido mi dò c'è anche sto qua bellissimo certo di costante lo jimmy do emilton in europa pan europe c'è meglio oggi diciamo la verità che si può dire niente un altro emilton scuba nevi scuba 43 colori forse altro emilton dramatic molto molto bello mi piace tantissimo automatico io ce l'ho manuale nero è più bello il mio sicuro poi un seiko prospects tutto nero tutto nero ci piacciono gli orologi neri si vede molto a me piace davvero tanto come non si vede molto si vedeva cos'è un altro seiko icnos un x un icnos chiedo scusa non so se conosci il marchio micro band mi piaceva per questa cassa particolare e l'ho preso non mi piace tanto il quadrante di questo orologio classico prx c'è tutti gli orologi del gruppo swatch c'è tutti un siti pro master classicone ma anche te sei messo bene c'è meglio orologi dai non non ti si può dire niente uno squale gmt carino carino e poi basta ancora poi qui abbiamo un bellissimo zrc bella scelta originale uscito da pochissimo nella versione verde e questo ci piace molto 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 interessante particolare bello e allora i sacquis anche questo molto carino ancora ce n'hai sennò non andresti così veloce dici te no poi abbiamo nitro conquist col becce ramic un ongin un quarzone della bulova bravo ci sta un erodia non so se conosci il marchio si conosco un rado cut and coke in bronzo ora arriviamo ai pezzi forti a si è perché questi qua facevano schifo tagoyer carrera topino topino cronomat gmt nella versione blu come il mio pari pari e il tudor tieni tudor cronografo ancora e comparti una scatola da 22 non fare tre scuole rolex explorer top fin master moon watch io questo cielo questo chiedo scusa non zenith dei fiscali molto molto carino particolare e quasi dimenticavo di mostrarti questi sono due philip watch e due orient sono quelli con cui ho iniziato e sono quelli che mi hanno fatto salire la scimmia come la chiami tu bravo un saluto a tutti e grazie mamma mia quanti belli orologi allora intanto quasi va di quantità è quasi spinge sulla quantità perché poi tutti orologi insomma conosciuti ai più di roba strana non abbiamo visto abbiamo visto qualcosa di strano no abbiamo visto tutti quegli orologi che che piacciono a tutti diciamo la verità o più o meno non sono quelli che piacciono a tutti gli emilton così loris acquies lo spirit e non g spirit il bright ring cronomat come ho io o zenith di fai un bel botto di quello lì mi piace tanto il suo tempo a un certo punto avevi una serie di roggio con il mio speed master come il mio bright ring cronomat come il mio poi siamo arrivati lo zenith di fai e no io quello lì non ce l'ho e la metà gli è caduta la lacrimuccia perché ha detto ma come ma perché perché lui si e noi no ha detto e noi no e fa sempre la vittima fa la vittima no fa la vittima in modo che io poi mi intenerisco perché io sono uno con il cuore no tenero e gli dico vabbè compriamo lo zenith di fai no non lo prenderebbe lo zenith di fai perché è un po troppo grande come diametro forse poi mi sta bene al polso e poi la sfera dei secondi che viaggia veloce non mi fa tanto impazzire cioè aspettiamo sempre io su zenith lo vorrei uno zenith in connessione prima o poi aspetto sempre che esca qualcosa che veramente mi faccia fare quello scatto da dire wirka wirka capito comunque la tua collezione di un bel 8.5 perché di tutto rispetto valida tutti i orologi che io vorrei avere praticamente quasi tutti come prima saranno amati io che voglio avere tutti gli orologi degli altri l'erba del vicino è sempre più verde diceva bob marley lo diceva lui comunque dai 8.5 ti sei meritati potevi anche spendere un po più di tempo per ogni orologio perché ci hai messo tre minuti a fare un video con 200 orologi significa che a qualcuno andavi veloce così qualcuno spendevi due parole sul perché l'hai preso per come cos'è ci vuole anche la via di mezzo io dico andare veloce ma tre minuti e mezzo per 30 orologi quanti quelli che erano anche no va bene comunque dai grazie per il video ci siamo divertiti prossimo ciao davide ciao amici del canale amici quest'oggi vi porto all'interno del mio studio di produzione musicale produco musica elettronica ma non per produco musica elettronica già qua levalo il marshall lì perché non sei degno di tenere il marshall lì in alto a sinistra perché marshall c'è roba con la chitarra distorta e la batteria con la doppia cassa così la musica elettronica non ce lo vogliamo il marshall divertiti fai quello che devi fare con il computer lì la musica elettronica pum 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 ma lascia stare il marshall eh farvi vedere o ascoltare musica ma per farvi vedere un aggiornamento nella mia collezione di orologi ti mandai un video circa un annetto fa dove ti mostravo i primi pezzi e bando alle ciance cominciamo subito ti faccio vedere una breve panoramica di quelli che erano gli orologi precedenti partiamo da questo casio edifice orologino da poche centinaia di euro forse 150 euro adesso non ricordo benissimo nessuna pretesa particolare un orologio al quarzo è carino esteticamente non lo sto più utilizzando detto francamente però vabbè dai per tutti i giorni può anche può anche andare bene ma c'è secondo me è molto meglio di altri orologi ecco della stessa fascia di prezzo secondo emilton khaki pilot pioneer movimento h10 ottimo orologio bellissimo mi fu regalato l'anno scorso dalla mia ragazza e mia sorella il compleanno mi piace un sacco so che a memoria lo hai avuto anche te emilton personalmente parlando lavora veramente bene non capisco chi si lamenta invece dei movimenti che a parer mio ok non bellissimo da vedere forse esteticamente ma super preciso almeno io mi sono trovato sempre bene quindi niente da dire emilton super promossa la statistica dice che sono precisi non lo dico io ti faccio vedere questo che è uno degli orologi che penso non utilizzerò mai più nella mia vita ovviamente noi ho fatto cambiare la batteria perché appunto come ti dicevo non lo utilizzerò più non lo utilizzo più non è nei obiettivi rimane un ricordo uno dei primi ti faccio vedere invece gli orologi che non ti feci vedere l'anno scorso perché perché ovviamente nuovi arrivati bravo lo conosciamo tutti secco 5 snx un everyday watch veramente veramente interessante dal punto di vista estetico ovviamente non si può dire la stessa cosa del movimento è un orologino da poche centinaia di euro nessuna pretesa immensa ma secondo me fa la sua bella figura al polso è molto carino parliamo di un secco 5 e fondamentalmente parlando secco con questo modello qua secondo me ha veramente sbancato perché poi è appagante alla vista che bracciale ti c'è il polso e piacevole da utilizzare sostanzialmente ma certo secondo orologio che ti mostro dei nuovi arrivi cos'è cos'è è questo longin hydro conquest acciaio e oro rosa una configurazione particolare che non ho visto a nessuno degli amici del canale detto sinceramente ci sarà un motivo mi piace tantissimo perché perché poi le finiture di longin sono veramente ottime il movimento veramente veramente preciso dovrebbe essere l'età 28 24 a memoria e i dettagli della ghiera in oro rosa e le e le sfere in oro rosa secondo me oltre che gli indici gli donano veramente un aspetto particolare e sicuramente poco poco cioè è un ottimo orologio da quello che da quello che è il mio punto di vista anche esteticamente parlando un orologio che apprezzo molto unica pecca secondo me ma penso sia più un mio di un problema non lo trovo super extra comodo al polso ma sicuramente un ottimo un ottimo rollo anche sto qua è pesante poi c'è la spalletta passiamo brevemente vintage ho acquistato nel recente passato questo universal geneva il movimento dovrebbe essere il 252 dovrebbe essere un orologio degli anni 50 barra 60 mi è piaciuto particolarmente per quelle che sono per quelli che sono i segni del tempo un orologio veramente disintegrato in termini di diciamo finiture della cassa e quant'altro ma mi piace molto mi piace molto perché poi comunque il dia risulta essere molto pulito e onestamente parlando lo trovo veramente veramente interessante come orologio penso che universal geneva abbia fatto un pezzo della storia dell'orologeria certo quello è molto interessante questo secondo è questo longin tank è un placato oro mi piaceva mi piaceva mi è piaciuto subito un carica manuale come quello precedente sinceramente parlando lo trovo un orologino un orologino carino per le situazioni eleganti e mettili più vicino più vicino la fai annusare gli ultimi due acquisti invece sono questo bulov acutron non nella configurazione che siamo abituati a vedere di solito dovrebbe incassare il calibro 218 non sono così convinto di mantenere questo cinturino perché sinceramente non mi fa particolarmente impazzire però l'orologio mi piace molto col suo guadalante champagne queste gli indici e e le sfere in azzurro e cromo sostanzialmente ma mi piace mi piace molto questa cassa questa cassa cassa è un orologino veramente carino ultimamente lo sto molto utilizzando classico design in 70 piace qualsiasi orologio penultimo orologio sempre un vintage è questo omega degli anni 60 il suo dial mi fa star male veramente mi fa impazzire non so se si notano i segni del tempo il fatto che sia virato abbastanza la fioritura all'interno mi fa veramente impazzire non so come sia possibile ma il sole sbrilluccica un sacco l'unico problema di questo è il fatto che non abbia la concina lugata la sua fibbietta originale però invece è rimasta ultimo orologio invece è il mio penso la mia punta di diamante è questo rolex explorer da 36 124 270 orologio incredibilmente comodo adatto a qualsiasi situazione tu lo hai e puoi sicuramente confermarlo un orologio che mi fa impazzire impazzire è spettacolare penso che all'interno del catalogo del catalogo rolex sia uno dei orologi più interessanti in assoluto niente davide con quest'ultimo orologio ti lascio ti auguro tante belle cose saluto tutti gli amici del canale e gli amici del del canale telegram ciao va beh ciao carissimo allora sei anche tu sul canale telegram ragazzi iscrivetevi al canale telegram trovate il link sotto in descrizione siamo tanti amici ci divertiamo tanto a parlare di orologi e scimmiette bel bel gli orologi hai fatto tutto il video però caro amico mio mettendo a fuoco la tastiera che è sullo sfondo gli orologi hai dovuto tenere lontano non si vedevano bene da vicino venivano fuori fuoco se mettete gli oggetti come sfondo e avete una camera che non potete comandare col fuoco vi mette a fuoco lo sfondo no va bene comunque gli orologi erano tutti simpaticissimi è emilton si secco 5 l'oggini idroconquest altro l'oggini vintage poi ti do un 7 un 7 un 7 perché insomma dai un 7 te lo meriti le punte di avanti sono chiaramente l'oggini idroconquest moderno rolex explorer da 36 ma anche quei vintagini lì che ci ha mostrato l'universo e geneva e l'omeghino non sono da meno però sono un pochino sai che il vintage no io lo tengo un po meno in considerazione rispetto ai pezzi da 90 grossi nuovi moderni quindi il 7 tutto tondo te lo sei meritato simpaticamente altre considerazioni da fare sui orologi non me ne vengono a mente se non che continua così altro non ho da dire non è che posso stare lì a pettinare le bambole e a smacchiare giaguari ragazzi oggi tre video dai una puntatina un pochino così ridotta in termini di numero di video poi la lunghezza non lo so quanto verrà fuori dopo il montaggio e tutto però ogni tanto ci stanno vi faccio la puntatona da un'ora la puntatona da mezz'ora si varia un pochino quando così quando cosa come diceva paperoga più o meno mi sembra davvero tutto dai io vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love